Oggi chiediamo allo Spirito Santo la grazia di sentirsi in comunione con Lui. Dalla lettera ai Romani, il capitolo e l'ottavo, i versetti sono il sedicesimo e il diciassettesimo. Lo Spirito stesso attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se veramente partecipiamo alle Sue sofferenze, per partecipare anche alla Sua gloria. Spirito Santo di Dio, in questo giorno ti chiedo di poter gustare intimamente la Tua presenza nella mia anima. Desidero sentirti profondamente in tutto il mio essere, Tu che abbracci teneramente tutte le funzioni della mia vita. Ti ringrazio perché mi permetti di unire le mie pene ai pattimenti sofferti da Gesù durante la Sua vita terrena, e soprattutto quando morì inchiodato sulla croce, affinché anche noi siamo glorificati con Lui. Oggi riconosco, con il conforto potente della parola, di essere diventato erede di Dio e titolare di tutte le benedizioni che Gesù ci ha donato. Accolgo con la certezza della fede tutte le promesse che il Signore ci ha fatto. Amén 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 Amén